Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere la prima action figure della serie di action figure che mi è stata inviata dalla Disney, vi metto il link. Il personaggio che andremo a vedere oggi è Jean Erso, che sarebbe il personaggio principale del film Star Wars Rogue One. Vi faccio giusto vedere la confezione dall'esterno, molto bella questa foto dal film. E poi qui dietro c'è la storia del personaggio e roba in diverse lingue. Andiamo ad aprire e vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione. Come vedete l'action figure si presenta con diversi accessori, andiamo però prima a vedere la action figure in sé. Vi faccio vedere un po' di dettagli a questi occhialini. Il viso è così così, un po' sonno lento. C'è una rotazione garantita da un ball joint. Qui c'è questa mascherina strana che impedisce il movimento parzialmente del braccio. Infatti come vedete non riesce ad andare più in giù di così. Appunto le braccia si muovono su e giù, c'è rotazione qui, diciamo all'avambraccio, perché il punto di articolazione è più interno. Per quanto riguarda le gambe, qui c'è questo materiale flessibile, sia qui che dietro, che permette alle gambe anche singolarmente di muoversi fin qui e anche non indietro, perché sento proprio l'articolazione che si blocca. I dettagli sono piuttosto decenti. Andiamo a vedere gli accessori. Allora, qui abbiamo una pistolina, in tagli abbastanza basici, niente di che, che è possibile inserire nella fondina. C'è poi questo lanciarazzi, corredato da questo colpo sparante. Vi faccio vedere un po' i dettagli, è un po' strano, ricorda un po' il lanciarazzi di Halo. Il proiettile si inserisce così. C'è una piccola molla, si sente quando si preme, però per sparare bisogna semplicemente spingere questo proiettile. L'action figure si tiene a malapena in piedi e questa, a dire la verità, è una cosa che mi ha sorpreso, perché è molto leggera, però il lanciarazzi riesce più o meno a bilanciare il peso. Ok, quindi se siete degli appassionati di Star Wars, volete un action figure senza troppe pretese, ad un prezzo accessibile, siamo sui 12, se non sbaglio, scusate se sbaglio vi metto un'errata corrige come annotazione. E questo video finisce qui, vi invito a iscrivervi, condividere, commentare, cliccare in piace sulla pagina Facebook del canale se questo video vi è davvero piaciuto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Bye bye! Ciao! Ci vediamo!